Come è andata? Era partita un po' e non abbiamo fatto bene, però siamo andati così, quindi non posso andare, ma è andata così e poi abbiamo finito la stazione, però abbiamo fatto una vera stazione e c'è un po' l'ammarico, ma sicuro che potevamo fare meglio, potevamo giocare meglio, ma così è questa stazione, quindi sono contento e poi dopo questa devo andare con la nazionale e poi dopo il ritorno qua per la prossima stazione, quindi la prossima stazione dobbiamo fare ancora un po' di più, quindi vediamo. Grazie a tutti. L'amore è un'escalante che non mi piaceva, ma non è un giusto per la partecipazione. Ma non è un giusto, ma non è un giusto per la partecipazione. Ma l'amore è un giusto per la partecipazione, ma non è un giusto per la partecipazione. e poi poi la prima volta che i miei suoi metodi e poi i miei suoi metodi. Quindi i miei suoi metodi, i miei suoi metodi di Milano.